un caro saluto a tutti quanti oggi ragazzi andiamo a sperimentare un mazzo in classificata in standard che è probabilmente uno dei mazzi che ha un maggior valore se vogliamo dire in questo modo per rancare il mythic e adesso lo andremo a vedere poi naturalmente ci andiamo a vedere in che cosa è composto questo questo mazzo adesso ci facciamo una partita lo testiamo e poi ve lo faccio ve lo faccio vedere naturalmente adattate ci sono varie versioni di questo mazzo e naturalmente questo è adattato per essere con l'ultimissima espansione wilds of earth rain appena uscita questa infatti è una delle carte di questa nuova espansione vedete che c'ha il ruolo stregone prende più uno più uno e ogni volta questa attacca profetizza uno è molto importante profetizzare anche per capire bene in quale modo la cosa poi funziona vabbè è finita molto velocemente adesso questo non ve l'ho potuta far vedere tantissimo però diciamo che è efficace se addirittura il nostro avversario si è spaventato allora sicuramente adesso parte gli scherzi lo vedremo in modo un pochino più approfondito nei prossimi giorni su twitch mi raccomando seguitemi trovate il link col qr code direttamente sul mio sul mio canale e così potete anche iscrivervi eccetera eccetera ma possiamo adesso vi faccio vedere come è composto questo mazzo e ti metto poi in descrizione di che cosa quali sono tutte le carte allora e vi spiego un po anche le combo allora questa è la carta diciamo tra le più care che si trovano se lo volete poi prendere anche fisico vi do anche un po di valore di mercato abbastanza cara questa carta perché ha addestramento come vedete addestramento molto semplice perché è una 1 2 che va giù con 1 quindi generalmente insomma se la trovate tra le prime mani le ha giocate immediatamente e ogni volta che attacca insieme a qualcun altro cioè con una creatura che ha una forza maggiore questo aggiunge più 1 più 1 che non è cosa da poco ufficiale di reclutamento è una carta anche questa che scende in fretta tra l'altro quando la utilizzate in combinazione con l'iniziato già al secondo turno attaccate questa carta essendo 2 1 quindi comunque a 1 in più aiuta l'iniziato a guadagnare più 1 più 1 quindi anche questa non è malissimo in più guardate qua pagando 4 quindi nel momento in cui siete un attimo scarichi dal punto di vista proprio del dell'azione vi permette di guarda le prime quattro carte del tuo grimorio rivelare una carta creatura con valore di mano pari o inferiore a 3 e aggiungerla alla mano quindi anche qui vi aiuta ad andare a pescarvi carte considerando che nella media sono quasi tutte carte che hanno questo tipo di valore screv è una carta bastardissima per due motivi primo perché comunque quando attacca da tossico che voi sapete che con i segnalini veleno come c'è scritto tra l'altro anche qui con 10 con 10 segnalini la partita finisce perché avete vinto cioè voi uccidete un avversario con togliendogli 20 punti vita o dandogli 10 segnalini veleno quindi non è male ma in più ha questo questo vantaggio che pagando un punto vita o un mana bianco scegliete un colore un'altra creatura avversario che controlla tossico e anti malocchio quindi anche solo con lui fisicamente giù potete dare tossico ad altri o addirittura anti malocchio quindi qualcuno che vi vuole distruggere un'altra creatura insomma diventa un bel casino l'avanguardia delle giubbermate fantastica non c'è molto da da spiegare il fatto che già vada giù con due e voi avete praticamente questo mazzo umani sostanzialmente da più 1 più 0 a tutti gli umani cioè capite bene che non è cosa da poco l'avversario intrepido l'avversario intrepido è una carta strepitosa ma attenzione non giocatevela subito perché ha un valore incredibile quindi questa è una delle carte ultime da giocare perché quando scende ogni volta che voi pagate due mana di cui non è uno bianco mette il segnalini valore sull'avversario cioè prende più uno più uno ogni creatura che voi avete giù quindi minimo la dovete mettere giù con quattro mana in modo tale che date più uno più una tutte le creature che avete giù e poi a logica anche sei aspettate però il concetto è che quando avete giù una valanga di creature a quel punto diventano super pompate super bellissime e super valide questa è quella carta nuovissima perché questo mazzo è stato di fatto aggiornato con l'ultima espansione wilds of eldrein che appunto vi dà la possibilità all'inizio del combattimento per pagare un mana generico tra l'altro e creare una pedina ruolo stregone quindi ha questo tipo di vantaggio e signori pagare un mana quando questa comunque l'ha giocata abbastanza in fretta cioè è veramente veloce da giocare taglia taglia è una delle carte più fastidiose che io ricordi semplicemente perché quando la mettete giù e soprattutto magari se ce l'avete nelle prime mani far pagare un mana in più per tutte le magie non creatura veramente rompe le palle tantissimo perché generalmente già per esempio se qualcuno ve la vuole distruggere eccetera è vero che a volte costa un mana però tendenzialmente almeno due mana per distruggervela o distruggervi qualcos'altro già il fatto che costi tre mana vuol dire continuamente far tappare mana agli avversari e rendervi la vita un po' più semplice a voi e decisamente più difficile agli avversari perché è una rottura di palle ogni volta questa cosa adeline è l'altra carta più cara che c'è nel mazzo cara dal punto di vista se l'andate a cercare naturalmente se l'andate a comprare la forza di adeline catara splendente è pari al numero di creature che controlli quindi in un mazzo che comunque ha tante creature capite bene quanto possa fare e ogni volta che attacchi e non necessariamente con lei crea una pedina creatura 1 1 bianca tappata che attacca quel giocatore ogni volta che attacchi c'è solo per il fatto che lei è giù incredibile ovviamente leggendaria quindi ne potete tenere una in campo però cioè stiamo parlando di qualcosa di potentissimo allora il pacificatore è una carta bastardissima anche questa perché va giù quindi voi la mettete giù quando volete avete tre mana non dovete fare dei ragionamenti la mettete giù senza problemi però voi andate a prendervi una carta dell'avversario comunque punto prima andate a vedere cosa in mano l'avversario già non è cosa da poco punto secondo andate a scegliervi una magia e questa inizia a costare due mana in più quindi state rallentando anche in questo caso il gioco dell'avversario il cataro non c'è nemmeno da spiegarlo il cataro va giù e finché non ve lo distruggono naturalmente ve lo esiliano fanno quello che ne hanno voglia e praticamente con tre mana andate a pigliarvi una creatura che c'è in gioco e quindi anche se fosse la creatura più maledetta che c'è voi ve la andate a prendere specialista di estrazioni carta ovviamente molto forte legame vitale è una 3 2 quindi già una 3 2 con legame vitale non è male quando lo specialista entra il campo di battaglia rimetti sul campo di battaglia una carta creatura bersaglio con valore di mana pare inferiore a 2 dal tuo cimitero quindi questa è una carta che non ve la dovete giocare subito ovviamente però capite che è un continuo rimescolare carte che vi possono essere vi possono essere utili cavaliere errante di eos mamma mia è una carta fenomenale con vocazione quando entra il campo di battaglia guarda le prime sei carte del tuo grimorio quindi anche qui è vero che costa tanto però punto primo vi dà la possibilità di di andare a prendervi altre creature che vi possono aiutare e quindi non è cosa da poco in più a convocazione quindi la convocazione è l'altra abilità fenomenale di quella carta qua perché è vero che voi dite a cazzo ma costa 5 sì però è convocazione è una specie di diciamo di abilità che che esisteva per gli artefatti adesso non mi viene il nome ovviamente vabbè è come l'affinità per gli artefatti è come nella parola cioè di fatto non è come l'affinità perché l'affinità per gli artefatti era il fatto che esistessero gli artefatti in campo vi permetteva di giocarvi come dire un determinato artefatto qua invece dovete tappare le creature però se voi ne avete tante ne avete anche piccole le usate per mettere giù una carta comunque fortissima virtù della lealtà virtù della realtà non è male anche questa fa parte dell'ultima espansione è un incantesimo a parte che anche qui ve la giocate velocemente come prima giocata e vi crea la predina 2 2 quindi già qua non è male poi se ve la giocate per il costo di 5 all'inizio della tua sottofase finale mette un segnalino più 1 più 1 su ogni creatura che controlli e in più le stappi cioè non cosa non è cosa da poco assolutamente questa già vabbè classica carta che appunto già funzionava la potete buttare giù tranquilla la usate per il mana oppure la usate per incanalare e insomma infligge 4 danno una creatura attaccante o bloccante versaglio e avete tutti gli sconti del caso qualora qualora insomma vi servisse per distruggere qualcosa non ha tante carte che distruggono però questa rientra tra quelle e quindi non è non è male questa e il cataro sono tra le carte appunto che vi aiutano a distruggere un po le gli attaccanti avversari e il resto assolutamente standard una nota margine per la fonderia di miscera che effettivamente non è assolutamente male punto primo perché come tutte le carte diciamo così tra virgolette terra che attaccano spariscono alla fine del turno cioè quindi quando il vostro turno finisce lei non è più creatura quindi è anche più difficilmente bersagliabile ovviamente se la vogliono distruggere mentre è creatura diventa ovviamente ve la bersagliate ma ha questo tipo di vantaggio che comunque se l'avversario ha tutto il mana tappato ovviamente nel suo turno questa torna una terra e quindi ha questo tipo di vantaggio bene questo è un mazzo ragazzi che serve uno dei mazzi per rancare i mythic più importanti spero di esservi stato utile in qualche modo seguitemi su twitch ci giochiamo tantissimo alla prossima e ciao